Un panettone dal sapore amaro e un sorso di prosecco andato di traverso. Il brindisi natalizio del corpo di polizia municipale con sindaco e assessore alla sicurezza non è andato come sperava il comandante Paolocci. Alla festicciola tradizionale per lo scambio di auguri si sono presentati in pochi, forse impegnati dai turni o polemica disarzione. Non è dato stapersi, le assenze più o meno ingiustificate degli agenti hanno fatto arrabbiare il comandante che così ha inviato una lettera a tutto il corpo di polizia locale. Scrivo per esprimere il mio profondo rammarico e forte disappunto riguardo alla modesta presenza della personale nel consueto incontro con sindaco e assessore per lo scambio di auguri natalizi. Evento peraltro da tempo previsto e a tutti comunicato con congruo anticipo, scrive Paolocci. La dimostrazione che c'è qualcosa che non va e non funziona tuona il PD. Penso che i problemi della città siano altri che non l'assenza volontaria di alcuni vigili agli auguri del sindaco e dell'assessore. Certo la stima e la fiducia non si conquista per decreto e quindi penso che ci sia molto su cui riflettere. Anche i toni intimidatori che ho letto nella lettera rispetto a un fatto del tutto personale mi sono sembrati eccessivi e la dicono lunga sul rapporto fra amministrazione e corpo di polizia municipale.